E ora si firmano petizioni sulla terra dei fuochi e ora si prendono iniziative da parte della magistratura, nei confronti dell'ilva di Taranto, nei confronti di un'altra struttura per la produzione di energia in Liguria perché da anni si inquina, si distrugge l'ambiente, si creano delle situazioni di pericolo per la salute pubblica e ora, giusto che ora si facciano queste cose, ma dove erano i politici, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dove erano i magistrati in tutti gli anni passati in cui queste modalità di inquinamento e di pericolo per la salute pubblica andavano tranquillamente avanti? Grazie per la visione!